Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo i 2, 1, 3, oggi siamo i 3 falou. Posso dare di caldo un uomo e cosa io sono più gli altri? Sono, sono il calchero dove ci fa solo un uomo. Poi tre mero, qua non, qui a mano. E oggi faremo vedere, uno, mi siete ancora? Questa persona che io siete per la nostra amica mi piace bene. Faccio come loro a me, lì, 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 lì. Oggi vi faremo vedere tutti gli eserotismosvisi e potrete venire con noi. Andiamo, se non ce ne fai. Un giorno vi faremo vedere i veloci al camera, perché non è come se vedete. E' molto, molto sorriso. Un giorno vi faremo un video dove voi lo vedrete. Questa è la mia sorellina, ce l'ha passata di me. A te. Via, via, via. Giovanni, Giovanni! Lascia da stare! Seguici nella camera un minuto. Allora, guarda, andremo fino in Piazza Messini, dove finisce il Eserotismosvisi. E via dentro! Ciao! Questa è il telecamera, man! E questo sono io! Adesso stiamo andando a vedere, non so! Vi mostriamo prima le nostre casette, perché abbiamo preso quattro. Quindi vi faremo vedere! Via! 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 Questo è il Babbo Natale sulla diacola, che si mette sul cavallo e tutta lina. Questo è invece il pupazzo, con la scritta, non so se vedete. Merry Christmas! Merry Christmas! E poi queste sono tutte le nostre casette. Questa è quella dei latigiani. Salutate! Questa è quella tutelido. Saluta! Ciao ciao! Questa sono tutte cose in legno. Se volete venire, vi dico che in Piazza Messini, no, in Piazza Aurora, Agliasolo, Cribas Village, quindi Agliasolo. E vi mostro le altre. Qua abbiamo salumi, omaggio, su, pilota. E qua c'è tutto il ristorante dove deciniamo. C'è anche Piazza Messini. Andiamo! No, no. Andiamo! Tu di Piazza Rossini! Dagliadita! Cioè, adesso stiamo andando in Piazza Messini. Vi mostriamo tutte le giostre qua in Piazza Aurora. Telecamera della mia assistente. Ha detto il suo nome Rachele, telecamera della mia maddalena e Giovanni Rampini. Questa è un trenino superveloce. Poi là c'è il simulatore. Vi faccio vedere. Poi là c'è il trucca bimbi. E là c'è il simulatore Formula 1. Andateci, bisogna almeno essere un metro e trenta. Andiamo in Piazza Massini! Andiamo in Piazza Massini! La nostra soluzione è telecamera. Telecamera a me! E ma adesso tre, filmati voi. Da che stai? Serviteci! Tim Trotel! Vieni con me Rachele! No, perché adesso il mare è noi! No, no, no! Giovanni! Devi stare qua perché il papà della Rachele la viene a prendere qua. Eh sì! E mi è già passata, non è ancora passata. Devi stare qua! Giovanni! Questo è il nostro... Dai, telecamera. Beh. Vieni con le camera. Adesso posso parlare io. Tutti e due. Questa, venite, venite! Di inizio. Questa è la nostra porta. Quando entrate ci sarà questa. Sulla nostra casette. E andiamo a vedere. Sì. Allora, il Tocca Bibi è una principessa del ghiaccio che ci farà truccare tutto quello che vorremmo dire e tutto quello che vorremmo fare. Seguitici che andiamo a vedere un simulatore a Formula 1. A tre schermi. Dieci euro Formula 1 vera. Con ruote finte per ora. E andiamo a vedere. Vedi, vedete? La lady, ciao, la lady, ciao. Adesso andiamo a vedere quello vero. Guido. Adesso andiamo a vedere quello. Questa è il giocca Bibi. Qua ci sarà. Ci pensa che toccherà il bambino. Tutto quello che vorremmo dire. Qua dentro, venite, venite, venite. Qua c'è il giocca Bibi. Di prima, ma perché ci ha la Bibi. Questa è la simulatore. Venite a vedere, venite, venite. Di in troppo, questo è il tra schermi con la polona vera. Guardate, c'è quella vera. E poi, venite, venite. Venite. Ciao, vieni, vieni, ragazzi. L'attifinale. Ciao. Schiaccio. Grazie. 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 Grazie.